che sia possibile con il tema di tutti, con lo sforzo di tutti, cercare di assestare un po' le cose fare in modo che questa pazienza collettiva che sembra prenderci tutti e anche nelle nostre istituzioni e anche nel nostro paese sia possibile fermarsi un attimo e tornare indietro quindi un grazie e un augurio perché i lavori che avete voluto vogliere in questa notte a parte città possono avere il massimo risultato possibile. Grazie.